Buongiorno Daido, Lockbit è un nome ormai molto noto nel panorama della cybercriminalità in particolare nei gruppi che offrono ransomware as a service cioè un servizio che consente ad altre gang di utilizzare un locker per bloccare i computer di un bersaglio e chiedere poi un riscatto attraverso lo stesso servizio offerto dal gruppo il ransomware per chi avesse bisogno di una rinfrescata è un tipo di malware che mira a criptare i file presenti su un computer o su un intero sistema informatico rendendoli quindi inaccessibili agli utenti una volta che questi file sono stati criptati i criminali che hanno diffuso il malware chiedono un riscatto che di solito è in bitcoin ovviamente o in altre criptovalute per fornire la chiave di decriptazione che permette poi di recuperare il file e spesso questi stabiliscono un termine ultimo dentro il quale il riscatto deve essere pagato altrimenti la chiave di decriptazione viene distrutta e i file rimangono criptati in modo permanente tra l'altro spesso vengono anche diffusi dei dati rubati alle stesse organizzazioni bersaglio secondo il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti i servizi di Lockbit sono stati utilizzati contro oltre mille organizzazioni e i membri della gang e affiliati hanno ottenuto decine di milioni di dollari in riscatti veniamo quindi alla notizia nella notte tra il 18 e il 19 dicembre l'Hospital for Sick Children di Toronto il più grande ospedale pediatrico del Canada ha subito un attacco da parte di Lockbit l'incidente classificato come Code Grey ha interessato diverse reti del sistema interno dell'ospedale ma al momento non sembra che siano stati compromessi dati personali o informazioni sanitarie dei pazienti un Code Grey è un livello di allerta che viene utilizzato per segnalare un incidente di sicurezza informatica in corso il termine Code Grey viene spesso utilizzato all'interno di ospedali o altre strutture sanitari per segnalare una minaccia che potrebbe avere un impatto sulla capacità dell'ospedale di fornire assistenza ai pazienti il livello di allerta Code Grey viene spesso utilizzato insieme ad altri codici di allerta come il Code Red che significa incendio oppure il Code Black che è un'emergenza medica e sono codici utilizzati per segnalare situazioni di emergenza all'interno dell'ospedale comunque la notizia non è tanto questa ma il fatto che Lockbit abbia poi formalmente chiesto scusa Lockbit ha dichiarato sul suo sito che il partner che ha attaccato questo ospedale ha violato le loro regole è stato bloccato quindi e non fa più parte del programma di affiliazione non solo ha affermato di aver pubblicato un decryptor gratuito per consentire alla vittima, quindi all'ospedale di recuperare i file al primo gennaio SickKids aveva ripristinato oltre il 60% dei suoi sistemi prioritari e aveva segnalato che gli sforzi di ripristino erano in corso e progredivano bene in un aggiornamento più recente l'ospedale aveva anche affermato di essere a conoscenza dell'offerta di decryptor gratuito di Lockbit e di aver coinvolto degli esperti esterni per convalidare e valutare l'utilizzo del decryptor e di non aver effettuato alcun pagamento a Lockbit o prima di pensare a questa notizia come una svolta etica della gang è bene ricordare l'attacco ransomware durante l'estate contro il centro ospedaliero Sud-Francilien in Francia l'analista delle minacce di MCSoft, Brett Callow aveva twittato Lockbit non è stato così caritatevole quando ha chiesto 10.000 dollari a un ospedale in un paese a basso reddito e né quando ha avuto a che fare con un ospedale francese quindi potrebbero le loro azioni essere più legate all'autopreservazione che alla compassione e più recentemente Lockbit aveva affermato di aver rubato più di 15 terabyte di dati dall'Housing Authority of the City of Los Angeles cioè HACLA che è un'agenzia pubblica che ha il compito di gestire e sviluppare gli alloggi a basso costo per le famiglie a basso reddito nella città di Los Angeles e di aver minacciato di rilasciare i file se l'agenzia non avesse pagato e anche se l'HACLA non ha confermato che l'evento di sicurezza fosse in effetti un attacco ransomware ha confermato questo evento cyber il 31 dicembre che ha bloccato il suo ambiente IT e ricordo anche che questa non è la prima volta che una gang di ransomware fornisce un decryptor gratuito a un'organizzazione sanitaria il ransomware Conti ha fornito un decryptor gratuito al Servizio Sanitario Nazionale dell'Irlanda nel maggio 2021 dopo che in quel momento era sotto forte pressione da parte delle agenzie di law enforcement internazionali quindi questa notizia non ci deve far pensare a un gruppo di persone guidati da principi etici che colpiscono solo i cattivi che possono permettersi di pagare perché ogni attacco ha delle conseguenze dirette o indirette sulla vita delle persone nel caso degli ospedali sono conseguenze più immediate ed evidenti ma in altri casi sono persone che perdono il lavoro o perdono i risparmi o magari dei dati preziosi o chiudiamo con una notizia croccante avete sentito di questo sviluppatore di bitcoin che ha chiesto all'FBI di aiutarlo a recuperare i suoi 3.6 milioni di dollari di bitcoin rubati? beh si chiama Luke Dashir ed è uno degli sviluppatori principali dei Bitcoin Core che è un'applicazione che gestisce il 97% dei nodi che compongono la blockchain di bitcoin Dashir ha contribuito a Bitcoin Core dal 2011 e da sempre sostiene il concetto di decentralizzazione su cui si basa la criptovaluta per il giorno di capodanno Dashir ha twittato che tutti i suoi bitcoin del valore di circa 3.6 milioni di dollari erano praticamente spariti ha detto che l'hack è stato causato dalla compromissione di una chiave PGP che utilizzava per assicurarsi che i suoi download di Bitcoin Core di un'app più piccola chiamata Bitcoin Knots non fossero infetti da malware ha anche affermato che tutti i suoi computer sono stati compromessi e ha esortato le persone a non scaricare per il momento nuove versioni Dashir ha detto di aver contattato l'FBI e la polizia ma di non aver ricevuto alcuna risposta e ha scritto su Twitter che cavolo FBI perché non riesco a raggiungere nessuno ho pagato le tasse e la polizia se ne frega che truffa voglio ripeterlo perché non so se hai capito bene uno sviluppatore di Bitcoin che crede nella decentralizzazione che esclude le autorità stabilite ha chiesto aiuto all'FBI per recuperare i suoi Bitcoin rubati e si è lamentato della mancata risposta parlando di truffa la lascio lì così a decantare poi mi direte di cosa sa questa notizia per me è un po' frizzante va bene tutto anche per oggi quindi grazie per aver seguito e ci sentiamo alla prossima ciao